già presenta la corrida di Montirone e la corrida di Borgo Sottolo per anni anche qua a Castigliendolo si sono già esibiti amici vi presento adesso siamo verso la fine mi si impasta un po' però sono stato bravo allora vi presento le perpetue allora piccolo disguido siamo a posto lì dovete chiedere qualcosa siamo a posto siamo a posto le perpetue scusate fermo un attimo per favore ma che bello la prossima volta fai partire prima gli altri distruggi quel pezzo di nastro vado bene 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 allora abbiamo cambiato un attimino un piccolo 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 di Sguidino passiamo un salto di concorrente allora impegnatissimo stasera allora ehi ragazzi bevono poi arrivano basta basta eh sì lo so lo so bene bene